Impossibile prenotare a breve una visita oculistica con il servizio sanitario pubblico. Ieri mattina chi ha provato a fissare un appuntamento si è sentito rispondere che per il momento non ci sono più posti disponibili, nonostante il report sulle liste di attesa per Piacenza presentasse il colore verde, ovvero una situazione ottimale. A farlo sapere è il sindaco di Ottone Federico Beccia, che oltre ad essere il primo cittadino è anche medico generico, con delega alla Sanità dell'Unione Montana, Altivalle Trebbia e Luretta. Nei giorni scorsi Beccia ha provato a fissare una visita oculistica per un anziano del suo paese, trovando tutto pieno. Solo grazie alla farmacia, che lo ha avvisato di un posto lasciato libero all'ultimo momento, è riuscito ad ottenere la prenotazione. Sempre a Ottone, impossibile prenotare un approfondimento diagnostico per un'anziana. Analoga situazione a Rivergaro, dove per una visita al fondo oculare e il primo posto libero era il prossimo 19 settembre a Bettola. Oltre alla impossibilità di prenotare le visite oculistiche con il Servizio Sanitario Nazionale, una difficoltà che, spiega Beccia, induce i cittadini a rinunciare oppure pagando a rivolgersi al settore privato, l'anomalia è che il report di monitoraggio dei tempi di attesa della sanità pubblica in Emilia-Romagna, di libera consultazione per tutti tramite il sito internet dell'azienda sanitaria, riporta una situazione ottimale. Di colore verde e nell'ultima settimana disponibile, dal 13 al 19 febbraio, le prenotazioni sono state 273, con un indice di performance, ovvero il rapporto in percentuale tra il numero di prenotazioni entro il tempo di attesa standard e il totale delle prenotazioni, del 100%. Sui tempi di attesa delle prenotazioni di visite specialistiche è intervenuta anche Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che con un'interrogazione alla giunta di Palazzo Mercanti sostiene che, nonostante le aziende sanitarie comunichi performance eccellenti all'insegna dell'efficienza, numerosi cittadini lamentano ancora una dilatazione dei tempi di attesa non accettabile in considerazione alle esigenze mediche, ricordando che la Regione Emilia-Romagna si è impegnata a garantire al cittadino l'erogazione di visite ed esami di specialistica ambulatoriale entro tempi di eccesa certi e chiedendo al Sindaco di attivarsi per acquisire dall'USL i dati dal 2019 ad oggi relativi ai tempi di intercorrenza tra la prenotazione e l'effettiva erogazione delle visite specialistiche.